Credo lo sarà. Sono un clinico, come Nicola ha detto, per cui lavoro tutti i giorni a contatto col paziente, svolgo la parte chirurgica, la parte implantare, la parte protesica dei miei casi, per cui ho un po' una visione abbastanza generale di tutti i problemi. Diciamo che l'argomento di oggi è un po' un argomento che riguarda i casi totali. I casi totali sono un po' l'argomento più ampio da discutere, anche forse più difficile in certe occasioni e rende un po' completa la nostra visione di un protocollo o di una procedura che andiamo a eseguire. Quindi direi che certo la mia relazione verterà su questi casi, però ho piacere di poter farvi vedere come ci sono arrivato a questi casi, ma anche tutte le metodiche per arrivarci in sicurezza, in tranquillità e che sia la portata un po' di tutti. Diciamo che la mia visione della professione adesso è quella di semplificare le cose, non è più quella di cercare procedure troppo complicate, procedure che rendono complesso l'esecuzione, la realizzazione di un manufatto protesico, quindi tutto ciò che secondo me è difficile e complicato, ve lo dico subito, da me non lo vedrete. Io credo di poter farvi vedere le cose che si possono applicare tutti i giorni con una buona qualità e una buona soddisfazione professionale. Quindi questa è la mia veste da clinico, però la mia veste da utilizzatore dell'AON e presidente dell'Academy come Nicola ha ben detto è questa, cioè io vesto anche i panni di dirigere appunto questa Academy che si occupa dell'utilizzo di questi prodotti e di prodotti innovativi, di verificarne l'utilizzo, di poter ampliare la gamma di applicazioni terapeutiche dei prodotti dell'AON e soprattutto relativi alle conometrie. Difatti Revcon si tratta proprio di parlare delle conometrie che sono sia conometrie implantari ma diventano anche conometrie protesiche e difatti oggi vedremo tutte queste interazioni. La mia storia parte da 20 anni fa, più di 20 anni fa, circa 25 anni fa, in cui sono andato a studiare in Olanda per la mia formazione professionale in parodontologia e in implantologia. Ho studiato all'Università di Amsterdam e Nijmegen, si dice in olandese, e qui ho completato in questo stabile che vedete sulla destra la mia preparazione dal punto di vista implantare e parodontale. Questo stabile era dedicato all'odontoiatria per cui ogni piano aveva una specialità e sono cose che ancora in Italia si fanno fatica a vedere. Questi sono stati i professori, i dirigenti delle istituzioni a cui mi sono rivolto appunto per la mia formazione, che sono persone importanti. E poi alla fine dell'accompletamento del mio master di specializzazione ho anche condotto degli studi istologici per cui mi sono anche un po' impratichito con alcune pratiche di laboratorio sul trattamento dei vetrini, perché ho eseguito uno studio sulle capre, in questo caso, che andavo a analizzare, vado subito tanto per avere un'idea, insomma sono andato a analizzare una forma di impianto a step che avesse dei gradini in maniera tale da riempire questi gradini attraverso un gap, attraverso un materiale per verificare la rigenerazione dell'osso. Già per 25 anni fa era una bella operazione questa, una bella indagine, perché attraverso questo impianto era possibile indagare ciò che l'osso faceva all'interno del riempimento di questi gap, quindi a step l'impianto veniva inserito a pressione contrario, come vedete, e venivano analizzate le rigenerazioni osse all'interno di questi gap, anche utilizzando un materiale a base di trifosfato di calcio che è stato analizzato per, diciamo, solidarizzare l'impianto all'interno del sito e anche per verificare il turnover del materiale nel tempo. Quindi la faccio breve, comunque il materiale è un materiale riassorbibile, un trifosfato di calcio e questo ha dato dei buoni parametri anche per quanto riguarda la determinazione di che gap, jumping distance, come si dice al giorno d'oggi, è in grado di colmare un gap attorno a un impianto. Quindi il tema era importante, ma importante anche oggi. Quando avevo i capelli ero così, poi gli anni sono passati, il lavoro è andato avanti e sono andato avanti nella mia formazione e sono tornato dall'Olanda, essendo io figlio d'arte, ho potuto mettere in pratica ma anche sviluppare e trovarmi di fronte a dei casi clinici molto complessi da risolvere. Quindi in quel modo lì o ci si attrezza rapidamente oppure ovviamente bisogna delegare questi casi e io non li ho delegati, io mi sono subito buttato a capofitto e in tutte le procedure, dalle più semplici alle più complesse, chirurgiche. Quindi rialzi di seno, impianti postestrattivi, totali, qualsiasi cosa fosse fattibile l'ho eseguita. Un po' la mia formazione mi ha aiutato moltissimo, quella dell'Olanda, ma anche poi la possibilità di applicare, perché vedete, gran parte della nostra professione è anche legata al fatto di quante volte ci si trova di fronte a una situazione da risolvere. Se ci si trova una volta ogni due o tre mesi, magari non ci si ricorda neppure cosa si è fatto due o tre mesi prima. Se ci si incontra tutti i giorni del fronte a una situazione, ci si diventa più, si acquisisce esperienza, si acquisisce praticità e poi si fa una cosa fondamentale che vedete qui. Cioè io ho fotografato tutto dal 1996, per cui tutto ciò che io eseguo in studio è tutto fotografato, protocollato, schedato, per cui ogni procedura è ben documentata, di ogni paziente, per cui posso accedere ai file in qualunque momento e per quello dicevo posso farvi vedere qualsiasi cosa voi mi chiediate. E quindi questi sono i miei attrezzi del mestiere di tutti i giorni, la macchina fotografica, gli specchietti e gli retrattori. Da me non vedrete le foto dei congressi internazionali troppo elaborate, io non conosco Photoshop quindi non so neppure come funziona, quindi è tutto nature, diciamolo così, cioè quello che c'è, c'è e quello che si vede non nascondo, tanto per dirvelo. La mia formazione quindi tornando è affiancata a mio padre che mi ha diciamo aiutato anche nella mia sviluppo professionale senz'altro e poi pian pianino abbiamo, 11 anni fa circa, ho potuto ampliare lo studio, ho potuto fare uno studio più a mio modo di lavorare e mio modo di concepire la professione. Nel frattempo nel tempo il personale è anche aumentato perché c'è chi svolge la parte clinica, c'è chi ha abilità tecniche particolari, chi mi aiuta col CAD CAM, odontotecnici e poi il team, ecco nella versione più recente ecco, è questo, cioè verte appunto sulla mia presenza, la presenza comunque di mio padre, la presenza di aligenista fissa che è mia sorella e in più un numero di persone, collaboratori anche, dottori, ortodontisti che ci aiutano quotidianamente. Poi nella mia professione 5 anni fa ho conosciuto questo personaggio che credo che tutti voi conosciate e insieme abbiamo svolto tantissimi studi sul polioritano ma ci stiamo interfacciando anche in tantissimi altri progetti di intelligenza artificiale, di robotica, di diciamo di ultimissime ricerche sui preparati istologici, su diagnostiche al sincrotrone, cioè ci sono tantissimi progetti che stanno procedendo. Il professor Piattelli è come sapete un luminare in tutti i campi per quanto riguarda l'implantologia, l'osteointegrazione, nella rigenerazione ossea, riconosciuto a livello mondiale, per cui abbiamo in Italia direi ancora uno dei massimi esponenti di questo settore. Però la giornata di oggi verterà su questo argomento, il cui io ci tengo particolarmente perché muove la mia giornata di tutti i giorni e senza il quale io non avrei assolutamente affrontato e non sarei riuscito a risolvere tanti dei miei casi come li faccio. Perché uno degli argomenti fondamentali da discutere oggi è la connessione implantare. La connessione implantare, in particolare la KonoMors, in particolare KonoMors self-locking, è una connessione implantare che riguarda un angolo di inclinazione protesica all'interno dell'impianto, tale da dare un accoppiamento conico che diventa conometrico, KonoMors e self-locking nei suoi vari gradi. Quando l'angolo si riduce maggiormente da 10, 5, 4, 3 fino a un grado e mezzo come è la connessione KonoMors self-locking della AON in cui ogni parete della connessione è di un grado e mezzo per cui è di 3 gradi di conicità totali. Ha una superficie di contatto piuttosto ampia, alta in altezza, ne parleremo di tutti questi concetti. Ci sono ovviamente delle sistemi antirotazionali e una vite di fissazione degli abatment, di stabilizzazione e diciamo di sicurezza. Però in realtà il self-locking è in grado di accoppiare un moncone o un abatment anche senza vite, mantenendo una stabile connessione. Quindi è una delle cose importanti. Qui a fianco vedete invece ciò che in commercio è più diffuso, più usato, che è la connessione Ankylos che ha delle divergenze delle pareti maggiori, parliamo di 5,7 gradi per ogni parete, per cui è una connessione KonoMors ma non è self-locking o comunque non è self-locking tanto quanto questa e vedremo un attimino le differenze e l'importanza di questo. Quando parliamo di connessione KonoMors però dobbiamo introdurre questi tre personaggi che hanno fatto la storia e hanno pubblicato moltissimo su KonoMors. Uno l'abbiamo già visto che però è in comunicazione con gli altri due perché tutte le pubblicazioni derivano dal professor Biatelli ma sono state fatte da Marco De Gidi e dal dottor Mangano, del quale appunto che anche recentemente abbiamo avuto rapporti al Cernobbio per cui è uno dei personaggi che probabilmente per primo ha introdotto il KonoMors in Italia ma comunque anche a livello internazionale. Quindi già conosceva il KonoMors circa 30 anni fa. Però quando parliamo di questa connessione bisogna che parliamo delle sue caratteristiche. Le caratteristiche a livello osseo ma comunque a livello proprio di sigillo danno dei vantaggi a livello biologico, un po' Nicola ne ha parlato, ma comunque i vantaggi sono di ridurre la perdita ossea, di ridurre i micromovimenti, di ridurre il bacterial leakage, quindi tutto ciò che dà infiltrato batterico all'interno della connessione e anche il grado di infiammazione. Io quindi avrò la possibilità oggi di farvi vedere tanto di questi quattro aspetti. Ovviamente questo è suffragato da letteratura, io non voglio oggi tediarvi troppo con la letteratura, dedicherò 5-10 minuti, concedetemeli perché è doverosa insomma. Poi dopo vi farò vedere tutto il resto che sarà più leggero senz'altro per tutti noi clinici. Però questo studio di Mangano, sempre con lavorazione con Piatelli come vi dicevo, andava a analizzare queste connessioni a 10 anni, ma sul studio successivo anche a 20 anni di follow up. Andando a analizzare la sopravvivenza implantare, andando a analizzare le complicanze meccaniche, le complicanze tecniche, biologiche eccetera. E i risultati di non di due o tre impianti, ma di un gran numero di impianti, arriva a 1470 impianti a 10 anni, dà dei successi nelle connessioni con Omors altissimi, con sopravvivenza molto alta, ma anche con complicanze meccaniche e biologiche bassissime, senz'altro inferiore a qualsiasi altra connessione interna, esterna, esagono esterno, esagono interno, non c'è paragone diciamo. Questo perché la meccanica di una connessione del genere dà una stabilità decisamente superiore. Si riducono gli svitamenti e le rotture di qualsiasi vite venga connessa con questo sistema. Per cui già a questo studio da 10 anni si evidenziano delle conclusioni che le connessioni con Omors hanno un successo nelle riabilitazioni parziali o complete diciamo con stabilità meccanica che minimizza l'incidenza di complicanze protesiche. Quindi queste sono cose importanti. Questo poi è suffragato da degli studi istologici fatti su cane ma anche su umano in cui le connessioni con Omors sono talmente stabili che disturbano poco diciamo così l'osso al punto tale da favorire un'eventuale crescita dell'osso sopra o se posizionate al di sotto della cresta sono in grado di mantenere lo stesso osso, cosa che siamo abituati a non vedere nelle connessioni esterne. Queste istologie sono bellissime, uniche direi e evidenziano vedete le differenze tra una connessione esterna o interna che dà una distanza poi del grado di infiammazione e di infiltrato batterico che distanzia l'osso dalla piattaforma mentre una connessione con Omors addirittura fa crescere in alcuni casi l'osso sugli abattamenti e sono cose che vedrete anche nella mia presentazione di oggi parecchio. Per cui sono immagini senz'altro molto interessanti. Dopodiché anche il dottor De Gidi devo dire che ha contribuito tantissimo in questo campo, nel campo delle conometrie sia protesiche che implantari e facendo degli studi sia istologici ma anche radiografici e clinici per cui c'è tutto qui, sia istologici come dicevo che confermano gli studi che avete prima visto di stabilità meccanica e di crescita biologica dell'osso al di sopra della piattaforma o comunque di mantenimento essenzialmente dell'osso una volta posizionato all'impianto. L'osso non subisce una retrazione e quindi questo può essere anche considerata una strategia preventiva per l'insorgenza delle perimplantite. Bisognerebbe ampliare un po' l'argomento ma di certo ha a che fare con questo. Questo è uno studio per esempio di Castro che non posso non citarvi perché paragona nel stesso animale, in questo caso i cani, ma comunque paragona le connessioni con Omors alle connessioni a esagono esterno in cui vengono posizionati tre impianti come vedete un impianto con Omors sotto cristale e un impianto a livello cristale ad esagono esterno. Le immagini radiografiche ma anche istologiche confermano i dati che abbiamo detto prima, cioè che abbiamo un riassorbimento fino alla prima spira per gli esagoni esterni, questo è dato dall'infiltrato batterico, è dato dalla non stabilità meccanica della connessione protesica e quindi questo genera uno stress cristale tale da creare un riassorbimento fino alla prima spira. Ovviamente questo capite bene che dal punto di vista estetico può generare un grosso problema se posizionato in zona estetica. Mentre una connessione con Omors ha in grado di mantenere l'osso nella sua posizione per cui anche il tessuto molle, per cui non c'è in realtà una determinata altezza a cui possiamo mettere gli impianti, cioè gli impianti possono andare sotto cristale ma di uno, due, anche tre millimetri e non si notano perdite osse legate a questa procedura e credo che dal punto di vista clinico questo per noi sia un grosso vantaggio perché fino a un po' di anni fa a cui diciamo con le connessioni a esagono esterno eravamo fortemente condizionati nel posizionamento implantare in senso verticale. Nei postestrattivi immaginatevi quanto deleterio può essere inserire l'impianto molto sotto cristale nei postestrattivi, esagono esterno perché avremo un riassorbimento fino alla prima spira, avremo una perdita osse, avremo danni notevoli. Cono morso fortunatamente ci perdona molto e questo dal punto di vista clinico credo sia un grosso vantaggio da poter sfruttare oltre a tutti gli altri, quello della stabilità meccanica e quello della riduzione dei micromovimenti. Il cono morso come vedete anche in questo studio di Castro dà praticamente perdite osse rasenti a zero rispetto a un esagone esterno dove ci sono le classiche criteri di Albertson e Zarb dell'86 che ci danno da un millimetro e mezzo a due di perdita, per cui viene a essere sovvertito un po' tutti i nostri parametri a cui siamo abituati. Questo è uno studio su cani ma è stato confermato, ecco lo vedete per esempio un esagono esterno e la perdita ossea fino alla prima o alla seconda spira considerato normale per il primo anno, primi due anni e direi che non è normale che consideriamo invece il cono morso che è questo qui, vedete che il mantenimento dell'osso se posizionato sotto cristale è decisamente buono nonostante si applichi la connessione dell'abattement e queste sono tutte immagini che confermano tutto quello che vi dicevo. In più gran parte delle volte si nota addirittura l'osso che è quasi adiacente o comunque in contatto con l'abattement stesso, sono immagini così. Ecco queste per esempio sono radiografie mie che confermano tutti questi concetti, le radiografie di un esagone esterno, qui lo si vede, il risolvimento fino alla prima spira. Questa è una connessione con la morse ancora da protesizzare ma praticamente l'osso sembra disinteressarsi completamente di ciò che è lì, non ha nessuna influenza. Qui vediamo per esempio una connessione con la morse self-locking connessa e si vede che l'osso mantiene un livello rettilineo senza subire neanche un minimo di riassorbimento nonostante la connessione sia attivata e queste mie immagini ne ho tonnellate da farvene vedere per cui vi faccio vedere cose magari più interessanti per cui nello stesso paziente usare un esagono esterno a destra e usare a sinistra una connessione conica, ecco qui non è con morse self-locking ma è già conica che ha delle performance nettamente superiori, vedete che garantisce la stabilità dell'osso fino alla piattaforma implantare senza perdita cosa che invece non avviene negli esagoni esterni e questo tra destra e sinistra nello stesso paziente credo che sia interessante da far vedere. Altri casi dove è costante nella buona riuscita di un esagono esterno avere l'assorbimento fino alla prima spira, un po' in tutti i casi e ne ho tonnellate anche di questi casi da farvi vedere. È una costante in tutti i casi anche nei totali, superiori, inferiori, perdita fino alla prima spira e poi mantenimento. Però ci sono anche studi radiografici su clinici diciamo radiografici che Degidi ha fatto in cui ha analizzato proprio la perdita ossea dell'impianto con morse e ha verificato, ve la faccio breve, a un anno ma anche a tre anni che è lo studio che la stabilità dell'osso viene mantenuta nella stragrande maggioranza dei casi se il posizionamento dell'impianto viene fatto sotto cristale per cui con un ottimo grado di successo implantare abbiamo anche una stabilità dei tessuti. I micromovimenti come potete immaginare nei cono morse sono decisamente ridotti ma non ci sono e questo è a tutto vantaggio dell'infiltrato batterico e dei micromovimenti che vengono mal tollerati sia a livello dei tessuti per la guarigione ma anche a livello osseo. Per cui in questo studio viene analizzato in vari gruppi ciò che è da micromovimenti e gli spazi all'interno delle connessioni implantari. Questo per esempio è un impianto a connessione interna brasiliano in cui sono stati analizzati degli spazi, si sono visti che ci sono dei micron per esempio nella parte interna per cui addirittura 50 micron di gap e certo questo non è a favore dei nostri batteri però le connessioni con e questa è una connessione cono morse anche questa sempre brasiliana dava senz'altro delle performance migliori a livello dei gap tra abatment e impianto da ridurre a 2-4 micron i gap però se parliamo per esempio della connessione della dense ply dell'Ankylos dava praticamente alcun zero micro gap nella parte accoppiata tra abatment e impianto questo è decisamente importante per noi. Altre connessioni che le danno per connessioni coniche o conometriche non sono per niente perché provate a vedere quanta superficie conica è in contatto in questa connessione e quanta invece non lo è, cioè lui è solo la parte diciamo coronale e non è la parte apicale per cui sono connessioni che hanno delle performance decisamente inferiori e non le potremmo neppure definire connessioni cono morse e neppure self locking. Per cui le conclusioni è che nelle connessioni cono morse anche in questo studio che analizza dal punto di vista delle micro tac e le connessioni decisamente sono quelle che hanno una miglior performance dal punto di vista della riduzione del gap tra abatment e moncone. Questa è una revisione degli studi per quanto riguarda i carichi che vengono scaricati a livello degli impianti che certo sono le connessioni implantari quelle molto sollecitate ma il carico parte dalla corona per cui dipende dalla dimensione della corona, dipende da che materiale è stato utilizzato, dipende dall'asse con cui il carico viene esercitato, poi questo viene scaricato a livello della connessione, importante sono le viti e poi viene scaricato a livello degli impianti e a tutte le spire dell'impianto per portare poi diciamo una stimolazione o una riduzione della stimolazione degli osteociti a livello istologico, i quali gli osteociti sembrano essere gli attori principali a livello osseo di ciò che succede sull'evoluzione dei nostri impianti in base al carico, cioè se il carico è all'interno di una finestra di adattamento corretta gli osteociti reagiscono dando agli osteoblasti lo stimolo per produrre l'osso e quindi fissare, creare l'osteo integrazione dell'impianto oppure se il carico supera la finestra di adattamento gli osteociti non danno il messaggio agli osteoblasti ma lo daranno ai fibroblasti, si crea una fibrointegrazione. Ovviamente scusate la semplicità di quello che vi dico ma in realtà tutti questi processi biologici stanno per essere indagati, sono già stati indagati ma gran parte adesso delle nostre attenzioni anche a livello di ricerca attraverso il professor Piatelli e anche legato al comportamento dei tessuti molli e quindi al sigillo che i tessuti molli danno a livello implantare perché è anche quello parte del successo dei nostri impianti. Dottor Degidi è un personaggio incredibile, ha fatto tantissime altre pubblicazioni, ha definito anche il suo concetto di The Chamber Concept che è direi un ottimo concetto che si sposa benissimo con una tecnica di cui anch'io sono un grosso utilizzatore, è la tecnica del one abatment one time, cioè quando si applica l'impianto e si connette l'abatment insieme ovviamente non aprendo più la connessione implantare non si genera più una possibilità di contaminazione batterica o di contaminazione con altri detriti biologici, può essere anche parte del tessuto quando si svitano e riavvitano le componenti, per cui ha senz'altro una performance migliore, per cui a mio avviso le cose migliori che si sposano in maniera ideale con un impianto con omorso self locking sono proprio le connessioni one abatment one time, nel senso che se l'impianto è sotto cristale è già piuttosto profondo e poter applicare immediatamente il moncone genera in quella zona una inviolabilità più della zona tale per cui genererà un processo biologico spontaneo decisamente migliore di qualsiasi altra procedura che comporta uno svitamento e un avvitamento. Per la verità io vi farò vedere anche entrambe le due procedure per cui secondo me entro un certo numero di volte può essere massimo una due volte può essere svitata la connessione o aperta la connessione senza generare grossi problemi se è performante la connessione ovviamente se siamo un po' pasticcioni se contaminiamo la connessione se pizzichiamo il tessuto eccetera tutto poi viene a essere vanificato. L'ideale anche per me è quella comunque di avvitare una volta solo il moncone e non toccarlo più. Ecco Degidi effettivamente con questo concetto lo ha messo bene in luce. Poi per quanto riguarda zero bacterial leakage la connessione con omorso e self-locking sono stati fatti degli studi molto interessanti in cui venivano diciamo colonizzati all'interno degli impianti con dei batteri e poi veniva analizzata vado avanti magari nel ecco in questi studi veniva analizzata poi anche sottoposta a carico il comportamento o comunque la contaminazione di un liquido al di fuori della connessione cioè in pratica se il liquido si colorava vuol dire che i batteri erano fuorisciti dalla connessione e coloravano la sostanza quindi anche in questi casi sono stati condotti parecchi studi che dimostrano che a parità di qualsiasi diciamo batterio tipo di batterio le connessioni più performanti che danno un sigillo e quindi non permettono la fuoriscita di batteri sono quelle con omorso self-locking più si stringe il cono più le connessioni diventano performanti per cui vi faccio un po la storia breve e qui cominciamo la parte clinica e vi faccio vedere le mie le mie foto cioè ciò che io costantemente quotidianamente noto e e che anche voi potete farlo magari fotografando alcuni vostri casi riguardandoli e questo è interessante perché nel 2005 vedete ho fotografato una connessione a esagono esterno una volta tolto il provvisorio questa è una connessione con esagono esterno di titanio liscio di 30 anni l'impianto branemark e questa è una connessione conica ecco credo che chiunque di voi possa anche leggere la storia di quello che sta succedendo qui la storia qual è è che questo è un impianto ben stabilizzato da 20 anni di carico in cui c'è già stato un risorbimento fino alla prima spira probabilmente anche la seconda ma che ha una stabilità perché è quasi superficializzata la connessione quindi non c'è più ciò che dà un infiltrato batterico che genera perdita questa è una connessione con esagono esterno uguale ma più recente in cui c'è un grado di infiammazione e una grado di perdita ossea ciò che vediamo notoriamente diverso è una connessione conica in cui il tessuto decisamente vedete ha una salute una stabilità una forma una consistenza un colore tutto quello che volete decisamente diverso e questo lo si vede anche clinicamente quando si applicano i monconi vedete il moncone in una connessione conica e stiamo parlando solo di conica neanche di cono mors dà decisamente una qualità anche della gengiva aderente decisamente diversa e le altre connessioni sono decisamente meno performanti dal punto di vista clinico queste sono vecchissime radiografie e quindi scusatemi la qualità che forse non è conforme a quelle che vedrete dopo e qui vedete la connessione esagono esterno che dà la classica perdita questo è un impianto stabilizzato da tanti anni e la connessione conica e la parte clinica dove comunque si vede un grado di infiammazione delle connessioni esterne questo è per esempio il caso dopo quattro anni vedete la stabilizzazione ma è tutto però a mio avviso questo non è normale non deve essere la normalità deve essere la normalità un comportamento di questo tipo cioè un comportamento dell'osso e dei tessuti in salute l'altro è un comportamento dei tessuti non in salute e che non è stabile nel tempo succederanno poi delle altre magagne e sicuramente nella mia professione ho utilizzato connessioni coniche di altri di altro tipo ma dove queste immagini o questi aspetti li ho notati sempre questo è un impianto dove ha la connessione cono mors in questa zona dell'impianto e qui c'è addirittura osso sul sul moncone che dà poi un'immagine clinica decisamente confortante io vi dicevo prima la cono mors previene la perimplantite è un'affermazione un po' provocatoria ma è un'affermazione che nell'ambito di tutto il comportamento biologico che questa connessione dà a livello dei tessuti predispone meno ovviamente a una perimplantite perché ricordatevi che la perimplantite è comunque un processo infiammatorio generato da un agente eziologico sono i batteri se i batteri lì non ci vanno i batteri non creeranno problemi quindi ho tantissime anche di queste immagini da poter farvi vedere e poi vi voglio anche lanciare alcune provocazioni perché è anche giusto credo farlo quando si usano le connessioni cono mors come voi vedete già hanno e l'avete visto un aspetto dei tessuti molto interessante in salute e anche un aspetto inter implantare del tessuto normale quindi qui potremmo pensare che gli impianti siano con una distanza corretta che non abbiano nessun tipo di problema di infiltrato batterico eccetera eccetera però in realtà guardate un po nonostante lo spessore verticale del tessuto sia esattamente ciò che la letteratura dà cioè circa 3-4 mm in salute e le piattaforme implantari possono sembrare distanti non 3 mm ma magari 2 mm però l'immagine radiografica è questa questo è un mio caso post estrattivo dove per ottenere stabilità meccanica e dare il carico immediato ho utilizzato un diametro di 4 e mezzo di questi impianti però ciò me li ha fatti avvicinare moltissimo questo sarebbe stato un disastro dal punto di vista biologico su due impianti a esagono esterno quindi volete dirmi che non è un vantaggio questo cioè il fatto di tollerare anche una vicinanza interimplantare maggiore grazie alla switching platform che la connessione dà e grazie alla stabilità dei tessuti quindi vi ho parlato già di due vantaggi importanti la indipendenza dalla profondità a cui si mette l'impianto e dalla indipendenza entro certi parametri ecco non stavo dicendo adesso cose limite ma alla distanza interimplantare questi sono parametri direi fondamentali per un clinico perché anche qualche piccolo errore come questo anzi questo magari non è piccolo ma comunque un errore può essere tollerato sia dal punto di vista clinico che dal punto di vista ecco qui vi faccio vedere ciò che era critico è un punto di domanda come succede che l'impianto lì è stabile questa è un'immagine clinica direi che insospettabile dal punto di vista di ciò e poi è una cosa mantenuta nel corso degli anni per cui non ci sono differenze per cui attraverso questi impianti queste connessioni secondo me i paradigmi a cui siamo stati abituati negli anni passati di distanza interimplantare per mantenere il picco osseo in zona estetica di avere gli spessori ossei per lo meno di due millimetri per per prevenire il cono di riassolvimento sono tutti concetti biologici importanti ma che dovrebbero essere riscritti con il cono mors noi stiamo cercando di farlo con i nostri casi con la nostra casistica e con il nostro con il nostro impianto vedete che in zona estetica il fatto di posizionare l'impianto troppo vicino alla corticale vestibolare oppure anche con una profondità eccessiva genererà un risorbimento che poi genera un problema estetico quindi quanto utile può essere una connessione cono mors in zona estetica io ritengo che sia fondamentale io ritengo che sia fondamentale anche perché il cono mors magari può tollerare qualche piccola diciamo vicinanza in più alla corticale vestibolare rispetto a un esagono esterno quindi paradossalmente è molto più difficile usare bene un esagono esterno che un cono mors nonostante sia comunque un impianto un po' particolare il cono mors ecco sono sono d'accordo su questo quindi riprendo il concetto di prima l'angolo magico che io definisco così ma che sta a indicare l'inclinazione della parete della connessione interna dell'implantare più si riduce quindi da 5,7 gradi a 1,5 come nel caso dei revcon come vi dicevo della connessione revcon più aumentano tutte queste caratteristiche biologiche osse e di miglioramento di tutti i parametri che abbiamo visto prima e qui ho da farvi vedere proprio casi semplicissimi ma dove noto costantemente queste cose vedete questa è una connessione aperta per cui ho tolto il moncone non ho fatto il one abatment one time e vedete quanto il tessuto di qualità sia perfettamente sano spesso ci consente di giocare molto di più con l'estetica e con gli spessori gengivali credo che anche i tecnici siano molto contenti di questo e gli aspetti poi clinici sono di estrema gratificazione perché il tessuto c'è ci si può giocare comprimendolo restringendolo dando gli spazi però in linea di massima il tessuto si adatta quando tutto è sano questo è il concetto per esempio una cosa interessante che volevo farvi notare su questo caso mio è che nel momento in cui io ho applicato il moncone che in questo caso è in cat cam con un t-base e un disilicato cementato sul t-base e si può vedere visivamente certo un'ottima caratteristica biologica cioè di stabilità dell'osso ma se vogliamo essere molto attenti e acuti e critici ci può essere stata qui una contaminazione dovuta al mio svitamento e riavitamento quindi lo si vede anche in bianco e nero un piccolo chiamiamolo gap un piccolo spazio ecco cosa che si nota meno nella parte mesiale ma questo può avere a che fare come vi dicevo con ciò che è andato dentro nella connessione nella mia incapacità di mantenerla perfettamente pulita ma nonostante questo e questo ha un anno ha un'ottima risposta quello che voglio farvi vedere è questo che dopo un anno vedete che questa cosa è stata riparata spontaneamente dalla biologia di questo comportamento quindi voglio dire certo l'avvitamento e svitamento è da ridurre il più possibile ma nonostante questo se c'è una stabilità biologica e un sigillo antibatterico secondo me tutto riprende nella normalità se ci sono queste caratteristiche ovviamente se la connessione non fosse stata performante questo piccola radiotrasparenza che non noto più qui probabilmente non ci sarebbe stata per cui sono piccole cose che si osservano ma guardando i propri casi come in questo caso vedete qui come possiamo quasi vedere l'epitelio del solco sotto c'è la connessione protesica ma anche il connettivo sappiamo che andamento parallelo ci sono tutti degli studi che adesso sono in corso con la professoressa alessandra giuliani e la professoressa jezzi a riguardo che stiamo seguendo anche su queste connessioni proprio su queste connessioni quindi sono molto interessanti vedete che quasi l'osso è indisturbato e non percepisce una presenza estranea che è l'impianto perché è tutto perfettamente sigillante e ne ho tonnellate anche di queste immagini anzi ogni caso è da fotografare perché sono tutti così io credo che questo abbia che fare proprio con i concetti che ulteriormente più evoluti si sposano con questi concetti biologici cioè il fatto di utilizzare un moncone unico che sia in grado di avvitarsi all'impianto dare una stabilità immediata della connessione sia meccanica sia del sigillo antibatterico sia dell'infiammazione e poi anche una doppia conometria attraverso l'utilizzo di una cappa quindi vi sto introducendo il concetto della biconometria cioè quel concetto dove utilizzando un moncone conometrico ad accoppiamento con o mors con con l'impianto sia in grado di dare un accoppiamento conico anche con una parte protesica nella scelta viene utilizzata un accoppiamento protesico di circa 4 gradi con la con la cappa protesica e questo dà senz'altro una buon compromesso ecco diciamo tra un buon accoppiamento e una prevenzione del disacoppiamento o sconamento della connessione ecco per termini in termini un po più colloquiali ecco i monconi conometrici kiss chiamati dalla dalla ditta sono dei monconi che possono essere dritti ad altezza variabile per cui si sposano un po con tutte le altezze dei tessuti molli variano da 0 7 1 e mezzo 3 4 e mezzo di altezze e in più hanno un'altezza protesica e questo è l'unico vincolo importante che noi dobbiamo avere cioè il fatto di avere 5 millimetri necessari di spazio protesico necessari per la cappa e poi c'è lo spazio ovviamente anche della metallo o dell'eventuale porcellana quindi abbiamo insieme ad altri componenti dell'academy identificato uno uno spazio che è volumetrico diciamo di altezza protesica di circa 9 millimetri che sono indispensabili tra il moncone la cappa il metallo e la porcellana direi che questo è un diciamo una misura abbastanza corretta circa 9 millimetri come vi dicevo per mantenere gli spazi protesici adeguati e non avere problemi insomma quindi diciamo uno dei limiti può essere l'altezza necessaria ecco altezza protesica le inclinazioni è un problema risolto perché ne abbiamo di varie varie inclinazioni può essere 5 10 15 gradi ma arriviamo a 20 sono anche in nuovo utilizzo connessioni scusate connessioni più marcate quindi non è un problema attraverso queste connessioni biconometriche cosa si può fare si può utilizzare la tecnica come vi dicevo one abatement one time cioè mettere l'impianto mettere il moncone e in questo caso vedete utilizzare delle cappe avete visto delle cappe metalliche ma l'azienda fornisce delle cappe anche diciamo per la guarigione in peak in pack di variabili diciamo svasature da 7 8 millimetri in base al tessuto che danno questo questo tipo di questo tipo di guarigione ottima direi che poi si sposa benissimo con una presa dell'impronta come volete cad camo con metodiche analogiche e poi un comportamento vedete dal punto di vista biologico e della connessione ecco vi faccio vedere qualche caso proprio semplice ma che direi che è importante vedete il grado di qualità dei tessuti che queste metodiche combinate insieme danno quindi un tessuto stabile già pronto per per essere improntato per la guarigione e per essere poi utilizzato per la parte proteica e queste sono tutte corone in cad cam su cappe vedete appositamente studiate con una spalla anche per dare lo spessore alla zirconia o al disilicato che si voglia dare per e quindi con un'attenzione per la protesi fissa migliore queste sono componentistiche non che non esistono in commercio ma che li ha solamente questa questa azienda ecco una cosa interessante è questo caso da farvi vedere dove scusate torno indietro per farvi vedere alcune cose dettagli importanti però scusa eccomi qua ecco questo per esempio ve lo già ve lo dico ma per puntualizzare alcune cose queste sono tre corone singole fatte in cad cam con le prime la prima scusate la la prima intesa settimo ecco diciamo il 27 con una corona avvitata il 26 ha una corona in biconometria e il 25 ha una corona avvitata quindi parecchi di questi casi li ho anche eseguiti per vedere il comportamento biologico delle due tecniche combinate nello stesso paziente e questo si vede il risultato clinico che direi che è molto molto simile dal punto di vista dei tessuti e poi voglio puntualizzarvi anche questo sembra che questo dente che è il quinto sia vestibularizzato con un'immagine un po magari poco conforme al tipo di connessione di di paziente comunque vuol dire che ci fosse un errore in realtà volevo puntualizzarvi questo che all'inizio partivamo da una biocopia cosa che io eseguo sempre prima di fare un'estrazione mi prendo una biocopia della forma del dente o del ponte a cui il paziente per tanti anni è stato abituato ovviamente io questo lo ripeto nel definitivo che poi eseguo per cui vedete che per esempio la forma del quinto iniziale in quello finale è stata pressoché mantenuta e questo lo si può fare con le metodiche CAD CAM digitali che a giorno d'oggi si possono fare e di fatti diciamo il paziente non percepisce neppure un cambiamento non si morsica la guancia non incappiamo nei problemi che quando dobbiamo ridisegnare gli spazi protesici capitano quindi la morsicatura della lingua la morsicatura del labbro ecco le metodiche CAD CAM consentono di prendere una biocopia che può essere anche conservata nella banca dati e poi riapplicata per ridisegnare il dente nuovo in CAD CAM e quindi dare gli spazi oltre a questo aspetto così diciamo più puramente pratico della quotidianità volevo farvi vedere il comportamento delle due connessioni da livello radiografico e qui possiamo diciamo notare che anche nell'applicazione sotto cristale anche in bianco e nero c'è un buon grado di paragone diciamo delle due tipi di connessioni biconometrica oppure evitata in cui grazie secondo me alla performance del cono mors ci tollera qualche svitamento sempre che sia nell'ordine però di due massimo tre svitamenti ci sono anche degli articoli che parlano di questo in realtà io credo che meno lo si svita meglio è se lo si deve svitare sappiamo che una buona connessione con mors self locking è in grado di biologicamente anche non generare una perdita ossea tanto diversa rispetto a una tecnica one abatment one time come vedete al centro di questa immagine però ecco diciamo che questo è un caso ma nello stesso paziente ci fa capire che entrambe le cose possono essere eseguite in più altri casi come si vede delle connessioni con omors con le biconometrie anche qui vedete con un impianto anche inserito molto sotto cristale questo alcune volte magari è necessario farlo per condizioni post estrattive in cui si debba stabilizzarlo l'impianto e nonostante questo direi che la perdita ossea non c'è e neanche dal punto di vista clinico le cose possono definirsi non correttamente eseguite ma l'altro un altro vantaggio qual è è anche questo cioè ci sono non tutti i nostri pazienti sono dei gram pulitori ne ho tanti e anch'io come tanti ne avrete voi che non sono dei grossi performance diciamo di genere orale e quindi in questo caso per esempio questo paziente faceva fatica a mantenere un buon livello igienico e quindi un impianto con omors self locking è stato posizionato dopo una progettazione protesica avvenuta in questo caso anche con metodiche di chirurgia guidata o navigata in questo caso è navigata sono chirurgie mini invasive in cui l'impianto viene posizionato in maniera guidata ecco diciamo così però connesso immediatamente con la metodica one batman one time ricordiamoci che l'igiene del paziente non è granché nonostante questo vedete si può ottenere dei buoni risultati dal punto di vista del comportamento dei tessuti e questa per esempio è la cappa protesica applicata e scansionata direttamente con la metodica cad cam queste diciamo cappe in pic ci danno una anatomia dei tessuti molli tale da garantire lo scanner una buona visibilità della spalla questo lo si vede anche anche qui che è la classica presa dell'impronta e poi una connessione biconometrica applicata vedete dove perdite osse non ci sono e dove l'aspetto estetico è direi direi buono con comportamenti biologici tollerabili ovviamente questo non è una giustificazione per inserire solo impianti con omors in pazienti che non si lavano e non si mantengono puliti i denti però io credo che dal punto di vista clinico noi dobbiamo valutare tanti aspetti quando abbracciamo la filosofia implantare di un caso cioè se ciò può darci vantaggi clinici come vi ho spiegato dall'inizio per me è un must subito si fa non ci sono né se né ma si fa subito perché questo mi darà dei risultati e la mia professione spero duri per i prossimi vent'anni non voglio tirarmi sulla zappa diciamo dei problemi perché non li ho valutati bene all'inizio questo è un altro caso biconometrico vedete dove la capa è stata connessa e da aspetti radiografici visivamente clinici diciamo molto molto interessanti in più questo è un altro caso quindi sono tutti molto molto simili di comportamento di mantenimento nel tempo vedete al punto di vista estetico credo che difficilmente si possa creare qualcosa di meglio dal punto di vista proprio clinico e qui voglio farvi vedere un altro caso molto interessante un po provocatorio ma che anche fa parte di questa di questo argomento un paziente che è venuto alla mia osservazione per un problema perché aveva sbattuto la faccia per terra però con un morso direi incredibilmente profondo dove e qua si intravede cosa è successo è una frattura del del dente e questa frattura andava sotto gengiva al punto tale da non essere restaurabile dal punto di vista né paradontale né dal punto di vista estetico la frattura era parecchio profonda vedete aveva già generato una perdita ossea per cui questo è un impianto è un dente che va va estratto questo però non mi dava neanche la possibilità di siccome è arrivato in urgenza non avevo neppure la possibilità di affrontare in maniera diversa se non questa mettendo e incollando il dente dalla parte vestibolare perché lingualmente come potete vedere dal morso era impossibile avere uno spazio protesico per cui anche se esponeva poco ma è stato l'unico modo per garantire qualcosa dopodiché ho cominciato a progettare il caso è un caso estetico in zona anteriore per cui ho utilizzato e io credo che quando si tratta di definire la parte estetica e la diciamo un ca di un caso critico sia importante avere delle metodiche di guidata di chirurgia guidata o di navigata che mi danno strategicamente l'esatta posizione proprio in termini millimetrici e di angolazione implantare per dare una buona una buona risposta in questo caso vedete io ho scelto una posizionamento implantare adatto per una protesi conometrica cioè che l'impianto fosse praticamente con un abatment dritto senza angolazioni e che stesse all'interno dello spazio protesico poi però per chi è fautore della protesi cementata deve essere progettato in un altro modo quindi l'impianto deve essere posizionato con angolazione più palatale per un'emergenza della vite protesica dalla parte linguale oppure per chi è fautore della protesi cementata deve essere progettato in un altro modo credo che l'ausilio delle tecniche digitali al giorno d'oggi ci dà una grossa mano su definire prima tutto quello che vogliamo fare quindi il caso come è proceduto è proceduto con l'estrazione del dente e il posizionamento implantare non a carico immediato perché immaginatevi quanto rischio in più avremmo corso caricando un impianto con un forte asse diciamo vestibolo linguale di carico nonostante il paziente possa essere per il tipo di morso per cui è un caso diciamo limite da affrontare in questo modo nonostante l'impianto è stato posizionato e quindi non è stato caricato in questo caso non avendo potuto applicare la tecnica biconometrica perché gli spazi protesici non c'erano in questo in questo momento ho dovuto applicare una vite di guarigione però guardate quanto la bontà chirurgica di una pianificazione dà precisione sul posizionamento congruente tra l'impianto il dente e scusate la vite di guarigione in questo caso e la corona finale per cui il progetto è stato perfettamente mantenuto e anche i miei controlli quotidiani che faccio di precisione della mia metodica dà dei valori decisamente al di sotto del mezzo millimetro per cui una precisione di posizionamento notevole poi ho atteso i tempi di guarigione senza andarmi ad affannare di dover caricarlo immediatamente l'impianto e a questo punto è stata applicata però la tecnica biconometrica quindi è stato tolta la vite di guarigione applicato il moncone applicato ai 25 30 newton se è possibile di diciamo accoppiamento corretto e è stata applicata una cappetta in pack la quale è stata opportunamente vedete un po direi sabbiata ma comunque un po modificata per poter ribasare lo stesso dente del paziente per cui ciò che ho fatto è una metodica proprio alla poltrona pepe sale di adattamento della cappa al dente quindi questo è il manufatto il manufatto che ho ottenuto per e ho riapplicato con l'accoppiamento conometrico vedete questa l'ischemia e comunque la compressione dei tessuti che questo ha generato però il risultato è questo e qui ci si pone la domanda ma conviene fare un definitivo io credo che un risultato del genere dove non so chi possa definirmi dov'è l'impianto e dov'è il dente sia 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 il caso di farlo di fatti con il paziente abbiamo concordato di mantenere sempre questo a portata di mano ovviamente il definitivo bisogna fare e sapete quanto difficile è in un caso del genere anche vedete quante diciamo caratterizzazioni hanno i denti di poter fare un definitivo congruente al centrale dall'altra parte questo è il suo dente e direi che non ha nulla invidiare a una corona protesica normale ovviamente però questo va fatto anche per questioni di stabilità nel tempo e quindi ho eseguito il definitivo che adesso vi faccio vedere eseguendo impronte tradizionali analogiche scusate digitali digitalizzate e questo è il definitivo ovviamente c'è molta difficoltà per il tecnico di replicare le corrette forme ma anche i corretti aspetti estetici di corone centrali e questo è il risultato finale e direi che comunque siamo vicini molto vicini ma non è qui un problema dei tessuti molli tutto è risposto in maniera ideale è un problema proprio di odonto tecnico di riuscire a replicare un'anatomia naturale del dente credo molto molto difficile credo sia una sfida di tutti i tecnici e qui vi faccio vedere invece cosa si fa dal punto di vista nel caso in cui si faccia un ponte in biconometria e come si passivizza e da qui parte un po tutta la metodica che adesso tra poco introdurrò cioè nel momento in cui in come in questo caso vengono posizionati due impianti e poi ovviamente il dente centrale non serva perché ha dei problemi prodontali eccetera deve essere estratto viene eseguito con il carico immediato un ponticino che viene ribasato in bocca con queste cappe in pack che vi dicevo e viene applicato con i due monconi conometrici questo vedete che dà un po' di ischemia al tessuto ma se noi gli diamo e qua vi faccio vedere tutto il caso perché ce l'ho completo e l'ho montato proprio ieri nel caso in cui si attendano alcuni giorni l'aspetto estetico diventa questo direi che quasi non si percepisce nulla di dove siano gli denti dove siano gli impianti e questo direi che è un bellissimo aspetto biologico di comportamento della connessione implantare protesica implantare e che completi un po tutto il discorso vedete poi quando dopo quattro mesi ecco si tolgono le connessioni si vede quanto il tessuto si sia adattato anche nella zona pontic non solo nella zona dei delle abatment protesici in questo caso l'impronta viene eseguita con le metodiche digitali come avete visto spesso adotto queste metodiche digitali applicate direttamente sulla cappa però ci sono gli scan abatment gli scan body adesso applicati alle cappe per cui c'è tutta un filone digitale che si può seguire volendo e come in questo caso invece ciò che vi volevo far vedere era il momento della passivazione intraorale in cui di cui io in cui credo molto cioè ogni manufatto che noi applichiamo in bocca a mio avviso non può avere una miglior passività se non a livello del cavo orale come si può eseguire una passività nel cavo orale di una coroncina singola direi che è molto semplice e non sto neanche a discutere avete visto prima ma in caso di un ponte è superiore al ponte di due tre quattro e tutta l'arcata io seguo sempre questi passaggi che adesso vi illustro allora le cappe che sono nel modello come vedete vengono diciamo poi utilizzate per la fabbricazione del ponte in questo caso è un ponte in zirconio in zirconio ceramica e poi in bocca vengono attivate le cappe quindi vengono proprio attivata la connessione quindi al massimo della loro performance e poi all'interno del ponte viene inserito il cemento il multi link hybrid apartment che serve per qui vi faccio vedere tutti i passaggi vedete questo è il cemento all'interno la cappa la cappa in questo caso scusate no prima vi ho detto una cosa non corretta scusate ho provato le cappe in bocca e l'ho sfruttata per poter provare il ponte ma poi la cappa viene tolta e la cappa viene inserita direttamente nel ponte una volta messo il cemento una e tutte e due e dopodiché sfruttando lo spazio del cemento che comunque è pochissimi micron ma che dà una certa libertà alle due cappe di potersi muovere all'interno viene inserito in bocca anche qua vi faccio vedere anche il video no scusate vi faccio vedere anche il video ecco viene inserito quindi il momento in cui le cappe vengono messe dentro viene messo il ponte all'interno vi ricordo che il cemento non è ancora indurito la paziente a questo punto vengono attivate le cappe e il ponte stesso in questo modo con un legnetto e che alla fine è una metodica più semplice ecco dopo di che si fa chiudere la paziente con un cotone eccola perfetto si attendono sette minuti che il cemento indurisca dopodiché si rimuove il ponte e questo è il ponte che viene rimosso con questa difficoltà zero direi a questo punto il ponte lo vedete ha ancora piccoli sbuffi di cemento che vengono perfettamente lucidati puliti e completate vedete che il tecnico mi aveva anche fatto un piccolo scansetto per l'alloggiamento del martelletto e a questo punto la metodica è completata questo è l'applicazione del ponte in conometria in biconometria con tutti i vantaggi che questo può generare l'ispezionabilità quando vogliamo la non avere a che fare col cemento il fatto di non avere problemi nella ecco vedete anche il grado di fissità direi che è buono e questo è l'aspetto interorale clinico del ponte quindi per chiudere un po' questa parte volevo dirvi che secondo me gli aspetti importanti che abbiamo visto delle connessioni con amorse self locking sono uno l'aspetto l'angolo del cono abbiamo visto che più si restringe più aumentano le performance biologiche meccaniche di tutti i tipi un altro parametro è l'altezza della superficie conica cioè l'altezza di superficie di contatto del moncone scusate del moncone dell'abatment con la connessione dell'impianto stesso è un altro parametro importante perché immaginatevi se fosse di pochissimi micron non si può parlare di un accoppiamento conometrico con amorse invece deve avere una superficie di contatto piuttosto ampia questo per dare tutti i sigilli meccanici che abbiamo detto è importante la tensione della vite di serraggio diciamo è più importante più si amplia questo cono più si amplia il cono più è importante e determinante la vite meno importante è la vite quando il cono si restringe tantissimo si restringe in termini di angolo e poi il quarto punto che noi come clinici non possiamo controllare ma che è di pertinenza della ditta sono le tolleranze manufatturiere della ditta produttrice dobbiamo fidarci di una ditta seria una ditta che produca le cose correttamente perché poi clinicamente quello che avete visto siamo noi poi a sperimentarlo e vederlo se lo vediamo in questo modo senz'altro le tolleranze manufatturiere sono quelle che dicono che vengono fatte altrimenti biologicamente non avremo quei risultati dicevo che la cono mors self locking è importante e in questo caso questi impianti si accoppiano tra il moncone e l'impianto stesso già autonomamente senza l'utilizzo della vite che diventa una sicurezza in più ma per farvi vedere in questo caso in questo caso è un masso comunque un blocco di metallo di 25 kg che cerca di disaccoppiare qui in cima c'è l'impianto e l'abatment senza vite di fissazione vedete che è in grado di tollerare 25 kg di peso quindi voglio dire è già questo un ottimo tipo di la vite però è in grado di aumentare l'accoppiamento di serraggio da 25 a 150 kg quindi immaginatevi che forza ha la connessione qui magari soprassiedo perché ne ho già dette ne ho parlato dei micromovimenti e introduco questo argomento allora io direi se magari volete che facciamo un attimino di sosta di pausa oppure posso continuare volete che facciamo 10 minuti di pausa o continuo sì sì no no io ritengo che puoi comunque gestirla in due tempi in due tempi avete visto anche il caso mio di prima quello sul centrale e non ho potuto applicarla subito l'ho applicata in una fase successiva quindi secondo me si può applicare secondo me il concetto di ridurre gli svitamenti di ciò che si è avvitato prima è un must importante però voglio dire se si fa rigenerativa si deve sommergere tutto è ovvio che non si può fare in quella seduta si farà in quella successiva quindi non vedo un problema secondo me bisogna ridurre a due massimo tre volte gli svitamenti però con attenzione perché anche qui l'ho accennato ma io quello che faccio è proprio con un micro brush e gli occhialini 4, 4,5 per controllo sempre che la connessione all'interno sia pulitissima prima di evitarci qualsiasi cosa e credo che questo dettaglio sia importante perché non possiamo pensare che tutto funzioni se non prestiamo attenzione a questi dettagli dove magari dentro ci vanno frustoli di osso di gengiva o batteri o placca ovviamente poi non si può pretendere che tutto funzioni miracolosamente magari funziona lo stesso bene ma voglio dire non è quindi io presto molta attenzione alla pulizia della connessione e presto attenzione anche a un'altra cosa che adesso vi sto per dire alla classica situazione clinica in cui il paziente avverte dolore quando si avvittano le componentistiche protesiche quando il paziente avverte dolore succedono due cose una può essere che si avviti o si pizzichi parte del tessuto all'interno della connessione quindi avverte dolore e questo non va bene dal punto di vista del sigillo assolutamente la seconda cosa che avverte dolore è perché genera troppa compressione sui tessuti quindi anche questo aspetto va tenuto presente e i monconi one abatment sono molto stretti come è in linea con gli ultimi concetti biologici cioè di non diciamo non emergere dall'impianto molto larghi ma emergere molto stretti e alti in maniera tale da distanziarsi il più possibile dalla connessione implantare e generare poi più in alto un altro tipo di connessione che rimane completamente indipendente dal sigillo vero che deve rimanere inviolato cioè quello fondo ecco spero di essermi spiegato ecco allora qui è un argomento un po' un po' particolare cioè allora io quello che faccio è definire la corretta posizionamento della piattaforma implantare quindi può essere uno due tre millimetri sotto cristale dopodiché proprio in maniera molto pratica clinica prendo la sonda e calcolo l'altezza dalla piattaforma al margine gengivale e quello mi determina l'altezza del moncone quindi può essere uno e mezzo tre quattro e mezzo perché poi i cinque millimetri sono solo di connessione protesica come vi ricordavo cioè le connessioni la k richiede un'altezza di cinque millimetri quindi in quel caso lì devo decidere se se e quanto del moncone lasciare all'esterno della gengiva quindi sono tutte decisioni che prendo intraoperatorie posso definirle dal punto di vista anche digitale prima se pianifico in maniera navigata o guidata la cosa però in genere calcolo lo spessore del tessuto molle e lì decido sapendo che ho altri cinque millimetri quanto di quel moncone lasciarlo fuori e quanto dentro se ipotesi adesso vi faccio l'esempio ho dal punto di vista verticale uno spazio poco superiore ai cinque millimetri vuol dire che non posso lasciare tutta la connessione esterna devo fare in modo che parte della connessione protesica mi vada sotto gengiva e questo non è un problema fortunatamente con le biconometrie perché non abbiamo a che fare col cemento quindi a meno che la cappa non impatti nell'osso quindi parliamo di profondità molto vicine alla piattaforma che è molto sotto cristale a quel punto lì diciamo riduco l'altezza del moncone anche se ho spessori diciamo ridotti di diciamo di spazi mucosi decido comunque di occupare spazio protesico all'interno della gengiva stando però attento che la cappa non mi vada a interferire con la superficie ossea ecco alcune volte per fare questa procedura e di fatti queste sono le attenzioni che bisogna avere ma alcune volte per fare correttamente la procedura va un attimino anche aperto il canale osseo per poter alloggiare un moncone corretto che abbia un ingaggio della cappa abbastanza sotto da poterci stare protesicamente quindi la risposta non è proprio adesso matematica di un numero particolare ciò che dovete ricordare è che i 5 mm di connessione protesica servono e questi 5 mm dovete gestirli o tutti fuori dalla gengiva o parzialmente all'interno stando attenti che però la cappa sia in grado di ingaggiare il moncone ecco questo è diciamo il concetto un po' che riassume tutto quanto perfetto esatto i 5 mm dicevo di connessione che però non è tutto lo spazio verticale come dicevo prima dovete calcolare che i 5 servono per la connessione però dopo c'è la cappa il metallo scusate il metallo la porcellana e tutto quanto quindi i 9 mm in genere dal margine gengivale devono essere rispettati insomma 8-9 mm direi che dalla piattaforma implantare sì 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 abbiamo anche una domanda allora abbiamo visto che one abattment one time è la scelta migliore però a partire da quanti newton di torque di inserimento dell'impianto posso mettere subito l'abattment a cuore leggero allora sì anche questo è importante diciamo che per avere una corretta stabilizzazione del moncone almeno i 20 25 newton servono si può anche fare a 15 newton però diciamo che lì è una cosa che deve essere poi rivista nel momento in cui si fa la cosa definitiva perché è comunque tutto stabile anche a 15 però personalmente io almeno i 20 newton ritengo che siano indispensabili per cui se l'impianto supponiamo a 20 newton di torque io avvito il moncone quando mi accorgo che il moncone gira un po' l'impianto mi fermo insomma tanto per dirla in termini semplici ok ok quando andiamo a 35 40 newton non c'è nessun problema ecco ok perfetto grazie prego prego ok procedo sì volete volete vado avanti allora scusate un attimo devo fare una piccola operazione qua in studio un attimo perché c'è il sole che mi batte sul chiedo scusa un attimo scusatemi oh là bene allora quindi su questo concetto della della biconometria abbiamo visto da una corona due un ponte ovviamente ci sono dei concetti molto più elaborati ma utilissimi dal punto di vista clinico che si possono applicare allora la storia della protesi toronto che è molto in voga molto inutilizzo al giorno d'oggi è una storia che parte da molto lontano ma che per farvela un po' breve si compone sempre di procedure protesiche che comportano avvitamenti e quindi l'intramezzo di elementi protesici che possono essere i famosi multi unit abatment o i pilastri standard pilastri conici esagonali si usavano un tempo ma comunque degli strumenti che portano la connessione a livello superficiale e poi ci sia un altro elemento che sono i monconi cilindrici o da provvisori eccetera che servono per la fissazione della protesi ecco questo secondo me è un è un grosso limite perché intanto si moltiplicano le spese per acquistare altre componentistiche protesiche inoltre perché aumentiamo le possibilità di svitamenti di rotture delle viti aumentiamo le complicazioni per quanto riguarda l'accesso alle viti eccetera eccetera immagino che chi fa questa metodica riconosca questi tipi di problemi quindi la protesi ibrida la protesi toronto bridge è una protesi elettiva nel mascellare inferiore però io credo che anche nella mascellare superiore possa essere avere un'ottima fattibilità e debba essere fatta in pazienti che abbiano un buon livello di igiene orale e ogni volta che si voglia avere una protesi smontabile dal dentista è pulibile per l'igiene professionale quindi diciamo che ha tutte queste caratteristiche inoltre le viti di fissazione anche qui bisogna discutere se si lavora a livello l'implantare oppure se si lavora a livello dei multi unit abbattiment sono torque di seraggio diversi perché le viti sono diverse ovviamente la biconometria dà dei vantaggi anche in questo senso perché è in grado di ridurre il numero di componentistiche protesi e semplificare i casi vado avanti per parlare del concetto nelle vecchie metodiche avevamo anche il problema della passività il problema della passività e dell'impronta quando si inserivano tutti gli impianti l'impronta veniva gestita in maniera di utilizzare il gesso utilizzare per esempio come in questo caso dei blocchetti in Duralay che venivano bloccati in bocca per poi prendere un'impronta pick up e poi veniva fatta la prova di Sheffield che vi ricordo non è altro che la prova di verifica nell'avvitamento di un impianto più estremo e controllare il ribaltamento della protese dall'altro e queste sono tutte prove importanti necessarie per definire la passività di un manufatto nel tempo però quello che anch'io personalmente ho fatto in studio avendo fatto molte di queste procedure ho pensato e ho visto che tutto ciò che poteva essere passivato in bocca era meglio per cui mantenendo la metodica avvitata ho spesso fatto questi tipi di procedure in cui la barra veniva sagomata dal tecnico e ancorata negli abatment che erano direttamente fissati all'impianto per cui anche qui eliminavo il problema del multi unit abattement ma venivano fissati sull'impianto in questo caso no specifico no ma normalmente lo facevo sull'impianto stesso e si bloccavano attraverso il cemento che avete visto prima il multi link hybrid i due metalli insieme in bocca e questo dava la passività del manufatto però sono tutte cose abbastanza complesse e complicate e la mia domanda era c'è qualcosa di più semplice che si può adottare per migliorare le cose perché vedete che comunque nonostante si tolgano questi manufatti protesici un po' di infiammazione c'è c'è anche in alcune zone un po' di più alcune zone meno c'è un sigillo non mantenuto sempre e qualche volta ci sono anche delle difficoltà tecniche di igiene per esempio in questo paziente nell'arcata inferiore vedete l'arcata superiore è stata fatta con la metodica classica quindi attraverso l'avvitamento una protesi avvitata sempre passivata in bocca e questa è la protesi eccola qui quindi monconi direttamente sugli impianti come vi facevo vedere prima e la saldatura diciamo la fusione cementata in bocca sui monconi invece nell'arcata inferiore è stata poi eseguita invece la tecnica diversa un aspetto importante delle protesi fisse tipo Toronto è anche però lo spazio verticale ci serve dello spazio verticale perché oltre allo spazio dei denti c'è deve essere anche lo spazio della flangia e quindi ciò che è un determinante nel piano di trattamento se eseguire o meno questa procedura sono gli spazi verticali io qui ho identificato quattro punti dove il grado di atrofia ossea determina il grado di protesi che andremo a fare al nostro paziente per cui si fa da un minimo di riassorbimento quasi zero in cui si esegue una protesi fissa dente a dente per cui è un circolare fisso su impianti ecco diciamo così quando aumenta il grado di riassorbimento si passa a una protesi ibrida e tipo Toronto Bridge se abbiamo gli spazi ancora più grandi si passa a una protesi sovrapposta c'è il tipo Overdenture però se gli spazi sono ancora più pronunciati si passa a una protesi fissa rimovibile che non so se abbiate mai avuto la dimestichezza o modo di utilizzarla io ho un caso da farvi vedere che è interessante in pratica quello che si deve guardare è questo cioè in base alla piattaforma dell'impianto e la posizionamento finale del dente si calcola quanti millimetri abbiamo di discrepanza e questo determina il grado di struttura protesica che andremo a poter utilizzare si passa da un fisso dente a dente da 0-4 millimetri da 4-9 millimetri può essere fatto un toronto avvitato a vivo ma maggiore di 9 millimetri si può parlare cominciare a parlare di un toronto conometrico di un overdenture o se è maggiore ancora addirittura anche la protesi fissi rimovibili in pratica quello che faceva un tempo era quello di andare a analizzare una ceratura montata in bocca e vedere l'aspetto che diciamo veniva ad essere realizzato di spazi tra il dente e la gengiva e quindi qui si capiva se era un caso da pronto o un caso da circolare dente a dente quando gli spazi sono molto alti voglio farvi vedere questa struttura qui perché è interessante comunque ed ha un suo perché che è una protesi fissa rimovibile dove viene fatta una barra con una certa verticalità di spazi e un cavaliere nella protesi che può essere bloccata attraverso dei chiavistelli oppure dei perni di frizione e questa è la tipica struttura con la barra con perni di frizione o dei chiavistelli perché ve la faccio vedere perché quando siano spazi verticali notevoli anche questo ha una buona cioè ha un'ottima soluzione sinceramente non ho avuto nessun problema nel farle ma che fa parte un po' del passato anche questo perché è comunque una protesi fissa però ha l'ostacolo psicologico che deve essere tolta e il paziente si vede la barra in bocca quindi ho trovato delle difficoltà non tanto nell'esecuzione e nella performance di una protesi di questo tipo ma soprattutto per gli aspetti psicologici e vi faccio vedere per esempio questo caso andiamo avanti questo caso di questa signora rapidamente lo faccio vedere in cui nel superiore dopo aver fatto nell'inferiore una protesi tipo Toronto mi aveva portato queste belle foto di quando era giovane e che mi sono servite un po' per poi fare tutta la ricostruzione implantare e proteggere quindi nell'inferiore ho eseguito la metodica classica parliamo di vent'anni fa quindi scusatemi se parlo di cose molto vecchie ma è ciò che si faceva eccola qua sono gli impianti esagono esterno in quel tempo rilevavo un'impronta intracchirurgica degli impianti con dei perni a strappo e quali la vedete e poi mandavo a casa la paziente una volta dopo il giorno dopo il tecnico mi forniva un provvisorio fisso rinforzato con una barra metallica ma un provvisorio fisso da avvitare come a carico immediato adesso però rimaneva l'arcata superiore e l'arcata superiore era un disastro dal punto di vista vedete radiografico e clinico per cui avevo delle grosse discrepanze e grosse infezioni per cui a suo tempo procedevo spesso proprio con l'estrazione una protesi totale con la quale la paziente stava e dopodiché si eseguiva la parte implantare in cui parliamo di epoche molto molto lontane nonostante questo gli impianti venivano posizionati in maniera strategica vedete veniva anche eseguito il rialzo di seno se necessario ovviamente non sono state caricate immediatamente ma è stata fatta la metodica tradizionale chiuso tutto attesa 4-5 mesi connessione protesica nel frattempo erano maturati gli impianti sotto per questa presa un'impronta classica pick up e classica pick up è stata presa anche nel superiore per cui i tecnici hanno doppia arcata sopra e sotto pieni in maniera tradizionale definiti gli spazi verticali tra arcata superiore e arcata inferiore definiti tutti i parametri estetici e dopodiché in CAD CAM a suo tempo è stata realizzata questa barra superiore nell'inferiore invece è stata eseguita la metodica della cementazione intraorale della fusione e qui lo vedete questo è un cemento per metalli che i tecnici conoscono molto bene la barra è stata passivata in bocca scusate e quindi e questo la radiografia è stata veloce ecco qua e questo radiograficamente mi fa confortare che la protesi sia perfettamente passiva sia superiore che inferiore quindi questo non è un gap se voi lo leggete non è un gap di misconnessione perché la connessione abattement impianto è qua sotto questo è proprio lo spazio dove c'è la cementazione della barra stessa e per cui è un lavoro vedete che dal punto di vista odonto tecnico è un lavoro preciso bello nel superiore solo che ha l'ostacolo di avere questa barra un po' particolare da far percepire alla paziente anche se l'aspetto estetico può essere decisamente gratificante e io qui ho da farvi vedere tre anni ma ho quattro anni di risultato cinque anni ho dieci anni quindi direi che anzi adesso sto notando quanto anche il rialzo del seno qui è guarito molto bene per cui sono casi che fanno parte del passato hanno una certa manifattura odontotecnica complessa ma che possono essere benissimo eseguiti questi sono altri casi eseguiti nello stesso modo con perni di frizzione o con chiaristelli che danno grosse soddisfazioni dal punto di vista odontotecnico e che a mio avviso comunque sono buone soluzioni vedete quando si possono mettere pochi impianti cinque impianti ecco non vado mai al di sotto dei cinque impianti nel mascellare superiore e cinque impianti nel mascellare inferiore il numero ideale per me è sei impianti all'arcata inferiore e sette impianti all'arcata superiore questi sono i numeri ideali a mio avviso la distribuzione meccanica dei carichi deve coinvolgere in maniera uniforme tutta l'arcata quindi più impianti e più si riesce a distribuire il carico e decisamente le cose vanno meglio e non ci sono sorprese e quando si sfruttano le metodiche di all on for che se diventano all on free non si riesce a completare la protesi decisamente non mi piacciono però nella storia dei nostri trattamenti circa una decina di anni fa ma parte da prima senza altro la sua storia questo personaggio ha un po' rivoluzionato e ha scusate rivoluzionato in senso moderno ma per la saldatura introrale è una metodica usata in passato ancora molto prima però l'ha sdoganata l'ha modernizzata l'ha resa al passo quei tempi il dottor Decidi perché la saldatura è una metodica di bloccaggio intraorale dei manufatti dei monconi protesici possano essere dei cilindri protesici oppure delle cappe delle cappe protesiche stesse l'ha sdoganata l'ha fatto tantissima letteratura e direi che è un pioniere ma è anche chi è più esperto in questa metodica in cui anch'io mi sono cimentato e ho utilizzato questa metodica per un periodo dopodiché ho evidenziato in mano mia delle problematiche non sinceramente accettabili da poter essere utilizzata quotidianamente per cui ho deciso di abbandonarla però ripeto non è voglio criticare la tecnica senz'altro eseguita da mani che la sanno eseguire va benissimo però ci sono alcuni paletti che non è che sia mano mia ci sono alcuni paletti che forse devono essere rispettati aumentando il numero di impianti aumenta il problema della passività della barra saldata perché aumentando il numero di saldature aumentano le tensioni all'interno della barra e questo è un dato di fatto perché è un conto che saldiamo quattro impianti o due un conto che ne saldiamo sei sette credo che con sei sette le difficoltà di passivizzazione possono non possono ci sono senz'altro per cui chi ha scritto di più di questa metodica si crede senz'altro dei gidi ma ha modernizzata perché attraverso l'utilizzo della biconometria e delle cape delle cape e degli steli sopra le cape è possibile saldare vedete un manufatto una barra ecco che sia in grado di saldarsi nello stelo ecco sinceramente nella mia metodica ho sempre utilizzato una barra da due millimetri proprio perché è quella che è più stabile e solida e ovviamente la barra occupando spazio applicata vestibularmente o lingualmente alla capa occupava ancora più spazio dal punto di vista proteso quindi per me era inaccettabile per me la saldatura andava solamente eseguita a livello degli steli poi bisogna decidere se vestibularlo o linguale ma a livello degli steli alti la barra da due millimetri perché è una barra stabile però si complicavano le manovre di passivizzazione quando diventavano impianti multipli come in questi casi e qui ho da farvi vedere alcuni casi di realizzazioni di barre saldate nel masciale in biconometria dove però questo era il mio risultato dopo cioè nonostante avessi saldato in bocca avessi fatto tutte le metodiche giuste poi la protesi non mi saliva correttamente nella cappa e queste per me sono cose inaccettabili poi in questo caso mi ha fatto capire molto di più sulla saldatura e spero che abbiate la pazienza di ascoltarlo un attimo in maniera tale che dopo arriviamo alle metodiche più recenti in questo caso vedete mascellare superiore caso disperato dal punto di vista dentale per cui molti anni fa eseguivo una mascherina chirurgica vedete che mi desse indicazione del posizionamento implantare e quindi vado avanti veloce estrago tutti i denti posiziono gli impianti e faccio due cose faccio un'impronta degli impianti in bocca quindi con le metodiche tradizionali in maniera tale da avere comunque un modello in mano e oltre a questo vengono inseriti i cilindri per la saldatura e viene eseguita la saldatura entrorale con criteri di passivizzazione del filo in maniera tale e anche le problematiche di sagomatura in quel momento del filo all'interno del cavo orale per cui veniva il tecnico perché noi non siamo come dentisti bravi almeno io non lo sono per sagomare correttamente la barra che tocchi bene dappertutto che se si salda da una parte non si stacchi dall'altra e quindi bisogna ripiegare il filo ci sono delle complicanze per chi conosce un po' la saldatura che ci sono l'errore più grosso però è quello di togliere la barra dalla bocca saldata per poter darla al tecnico che sarebbe la cosa giusta da fare per poter fare le sue lavorazioni odontotecniche però questo è un errore perché nel momento in cui la barra viene staccata dal modello scusate dalla bocca del paziente si innescano tutte le imprecisioni possibili immaginabili e quindi un parametro fondamentale è quello di lasciare la barra saldata in bocca e applicare e ribasare un provvisorio in bocca allora le cose vengono ad essere migliori nel caso mio come vi ho fatto vedere avendo preso anche l'impronta il tecnico mi ha colato l'impronta scusate vado avanti veloce e avendo la barra tolta dalla bocca del paziente ha provato a inserirla e guardate questo è i problemi che subito abbiamo riscontrato quindi è passiva la barra è impreciso il modello e qui non lo possiamo sapere qual è dei due errori però senz'altro la conferma che la barra non è precisa l'ho avuta oltre poi avere il problema degli ingombe protesici che spesso la barra dà vestibolari o linguali quando si fanno tecniche di saldatura su cilindri e non sulle antenne ecco per cui il provvisorio comunque è stato eseguito sul modello con la barra corretta nella sua passivizzazione in maniera tale da farmi fare il provvisorio dopodiché vi faccio vedere ecco vedete che questi gap che ci sono qui non sono tollerabili nel mio studio per cui come provvisorio l'ho accettato ma nel definitivo non l'ho più accettato per cui secondo me già questo mi ha dato grosse complicazioni ovviamente come vi dicevo applicate la difficoltà di comunicazione della saldatura al paziente intraorale poi applicate alla difficoltà della sagomatura della barra questo ha generato diciamo delle delle metodiche sicuramente che ho dovuto superare scusate io vedo delle frecce qui e non so come far a togliere queste cose qua e non so se riguardano il mio computer o il vostro però non so perché vabbè comunque continuo un attimino il caso quindi è stato completato non più attraverso una saldatura ma attraverso una cementazione intraorale a quel punto di una barra come le metodiche che avete visto prima però con ecco adesso si è tolta con vado avanti veloce ecco con una barra vedete saldata su cappe con metriche applicate in bocca per cui vado avanti vi faccio la storia breve perché sennò stiamo qua tutta la mattina in pratica attraverso questa metodica è stato attraverso questa metodica sono state cementate a livello intraorale le le cappe ed è stato completato il manufatto passivo sicuramente perché è passivo in bocca una volta ecco qua vedete le cappe messe nel modello poi in bocca eccole qua e cementate con la protesi stessa con questa metodica ho visto essere molto rapido nella mia esecuzione dei manufatti essere molto preciso e radiograficamente ottenere quella precisa vedete questa è la resina applicata all'interno e poi applicando la protesi sulle conometrie poi si indurisce con la lampada si rimuove il manufatto poi si rifinisce il manufatto molto semplicemente e si riapplica in bocca ovviamente questa cosa qui ho visto che mi ha dato velocità di esecuzione mi ha dato qualità di lavoro e mi ha dato poi precisione che non riuscivo a tenere attraverso la saldatura e poi riducendo noterolmente la quantità di cose che andavo a fare io in bocca al paziente mi spiego cioè io credo che quando il nostro atto chirurgico sia fatto sia anche il caso di congedare il paziente e salutarlo per mandarlo a riposare e dare al tecnico il tempo corretto per eseguire un manufatto protesico e eventualmente far tornare il giorno dopo il paziente per riapplicare il manufatto protesico questo caso mi ha fatto capire che la potenzialità della cementazione intraorale sulle cap econometriche superasse moltissimo dei problemi della saldatura mi mantenesse velocità di esecuzione mi mantenesse qualità di lavoro e mi mantenesse la poltrona libera anche nel pomeriggio con il paziente che sta a casa a riposare e questo vedete anche ecco dico che è preciso perché perché in questa metodica implantare è una connessione piatto su piatto che è qui e il fatto di non vedere alcun lume in nessuna parte dei monconi per me è indice di passiva di passivizzazione reale per cui non c'è una metodica sinceramente che è in grado in maniera semplice fatta da chiunque perché non ditemi che ci vuole il tecnico più abile del mondo nel farlo sia in grado di essere qualitativamente buono su questo concetto della saldatura quindi mi sono posto queste domande le domande sono il tempo di realizzazione il tempo per seduta quanto tempo devo tenere il paziente lì deve essere un manufatto passivo con la saldatura in determinate condizioni mantenendo lo splintaggio intraorale sì ma se lo tolgo non ho più passivizzazione costi della saldatrice l'estetica il numero di impianti necessari anche questa è una domanda importante e poi la comunicazione della saldatura al paziente e questo è un aspetto non banale cioè il fatto di applicare una pinza sulla bocca del paziente e la verte anche se non la verte è una scintilla che sarebbe un errore ma comunque può capitare insomma non è proprio piacevole quindi ripeto non voglio criticare questa procedura per chi la fa e che ha senz'altro in mani esperte molto più abili delle mie una validità di passizzazione totale e per cui io dico solo che in mano mia e con il mio modo di vedere le cose ho trovato dei sistemi che mi hanno bypassato il problema quindi le domande sono io devo avere un manufatto protesico ma per avere la passività la voglio avere intraorale in maniera tale da bloccare la protesi con un materiale rigido il passaggio da protesi provvisoria definitiva può essere eliminato quindi perché devo fare un provvisorio e non fare unicamente un definitivo io voglio fare una protesi definitiva a carico immediato il giorno dopo non voglio passare attraverso il provvisorio non voglio smontare e rismontare le cose ma voglio avere un manufatto definitivo finale voglio eliminare i fori di accesso perché è una complicazione smontaggio rimontaggio delle protesi è una complicazione voglio sostituire eventuali impianti o abatment se dovessero fallire perché la protesi non può essere flessibile in maniera tale da poter reagganciare un impianto fallito senza cambiare la protesi senza cambiare la fusione senza rifare tutta la mia progettazione e questo la dice lunga solo il metodico o l'onfor se avete tre impianti l'arcata non la potete fare quindi secondo me è un dettaglio anche questo importante ridurre poi i costi di fabbricazione perché si riducono le difficoltà operative odontotecniche e anche le difficoltà operative chirurgiche da fare la poltrona e poi una protesi che combina i vantaggi di una fissa rimovibile quelle che avete visto prima cioè che avesse un adeguato supporto di tutti i molli con i vantaggi di una toronto che sia fissa e non più con i buchi il paziente può decidere se mantenerla fissa fissa o togli o anche toglibile è un po' difficile sinceramente ma comunque in qualche caso si può anche fare si può realizzare una protesi che abbia una libertà di posizionamento dei denti in rapporto agli impianti rispettando gli spazi vestibili linguari cioè volevo realizzare una protesi che non avessi il problema dell'ingombro della barra di saldatura ma che fosse abbastanza libero nel posizionamento implantare ma anche negli spazi da occupare protesici e poi altre domande sono è sempre necessario saldare quindi oppure si può rinforzare gli impianti attraverso un altro materiale altre domande è importante è più importante a parità di costi il numero di impianti e una ricostruzione protesica complessa oppure è meglio aumentare il numero di impianti e fare una protesi a un costo più basso io credo che sia più importante aumentare il numero di impianti e fare una protesi flessibile come questa invece di ridurre il numero implantare e fare una protesi molto complessa in CAD CAM complicata dal punto di vista se fatta in zirconio complicata se fatta dal punto di vista metallico con problemi di passività eccetera eccetera e con pochi impianti in più col problema che se un impianto fallisce le cose non vanno bene per cui sinceramente il mio orientamento lo avete adesso un po' un po' capito quindi io direi Nicola scusami ma io due minuti li vorrei fare un attimino di pausa e così dopo parlo a ruota libera su questo argomento per un po' di tempo esatto magari facciamo una pausa se gli facciamo fare una pausa poi un paio di domande volevo fare ma volevo farle alla fine però se facciamo domande lui non si riposa quindi Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti.